Dangerous Love è tutto pronto, partiti all'esterno veloce Mamma Dalila all'interno Nordic Walking, poi Pedersini, Luigi Celli, My Necessity, Billy Silver e Luigi Celli e Dangerous Love anzi. Quando si va ad affrontare la prima piegata Mamma Dalila che in chiusura è passata favorita 3-0-9, Battistrada nei confronti di Nordic Walking, terza posizione per Pedersini, in quarta è Dangerous Love, in quinta Luigi Celli che all'esterno My Necessity e in coda Billy Silver con il gruppo allungato. Quando si transita di fronte alle tribune riduce adesso il ritmo in avanti Mamma Dalila, avvicinata da Nordic Walking, ad uguale intervallo è Pedersini, in quarta posizione Dangerous Love, in quinta a largo My Necessity con all'interno Luigi Celli, in coda Billy Silver. Si va sulla piegata di destra con Mamma Dalila che accelera nuovamente, aumenta adesso il suo vantaggio nei confronti di Nordic Walking, terza posizione per Pedersini, quarta per Dangerous Love. Quando ci si appresta ad affrontare la retta opposta alle tribune, mille metri alla conclusione, con Mamma Dalila che si mantiene in vantaggio nei confronti di Nordic Walking, Pedersini, Dangerous Love, Luigi Celli, My Necessity, mentre perde contatto Billy Silver richiesto dal suo interprete. I primi sei che si ricompattano quando si va ai tre quarti della retta opposta alle tribune con Mamma Dalila che si mantiene in vantaggio, sposta al suo esterno adesso Nordic Walking con in scia Pedersini, poi Dangerous Love, Luigi Celli, My Necessity che anche questo sta perdendo contatto con i primi. Siamo a metà della piegata conclusiva con Mamma Dalila che è ancora in vantaggio nei confronti di Pedersini che si avvicina scavalcando all'interno il richiesto Nordic Walking e quando si entra in retta di arrivo Pedersini che va a largo di Mamma Dalila e lo attacca. Luigi Celli sta aumentando il vantaggio di Pedersini nei confronti di Mamma Dalila e Luigi Celli. Non ha problemi, Pedersini vince facile facile, Pedersini davanti a Mamma Dalila e Luigi Celli. 7-4-3 i numeri ufficiosi per questa quarta corsa dall'ippodromo di Grosseto, il successo che va a Pedersini, numero 7 dello schieramento, i colori della scuderia San Michele, il training di Maurizio Guarnieri, Salvatore sulla sinzella, 3-22 la quota al totalizzatore.